Musica Buonasera e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è il primo ATG delle ore 21. Andiamo con le ultime notizie. L'Agenzia Europea del Farmaco, EMA, ha dato l'ok condizionale al vaccino anti-covid-19 Pfizer-BioNTech per l'Unione Europea. Al momento non ci sono indicazioni che il vaccino non funzionerà contro la variante del covid-19, lo ha detto Emer Cook, direttrice esecutiva dell'Agenzia del Farmaco. L'Agenzia Europea del Farmaco ha dato il proprio ok al vaccino Pfizer-BioNTech. La notizia che aspettavamo tutti quanti, la battaglia contro il virus, è ancora molto complessa, come dimostrano anche le ultime notizie provenienti da Londra. Ma avere a disposizione un vaccino efficace e sicuro apre una fase nuova e ci dà più forza e fiducia per la speranza, lo afferma il Ministro della Salute italiano Roberto Speranza. La protezione civile ha reso noti dati relativi alle ultime 24 ore per il covid-19. In Italia sono stati effettuati 166.205 tamponi e individuati 13.318 nuovi positivi al coronavirus. I attualmente positivi sono 605.955, 7.627 in meno, quindi guariti. Rispetto alla giornata di ieri sono decedute 628 persone per un totale di 69.842 decessi da inizio pandemia. Scatta domenica 27 dicembre il vaccino dei per il coronavirus anche in Campania, la giornata simbolica delle vaccinazioni anti-covid-19 che si terrà in contemporanea in tutta Europa. In Campania ci saranno 27 centri vaccinali, trasl e ospedali. Ciascuno effettuerà 100 vaccinazioni dalle ore 9 del mattino fino alle ore 22 per un totale di 2.700 persone vaccinate. Le dosi del vaccino Pfizer saranno somministrate al personale dipendente da alcune categorie come i componenti dell'unità di crisi anti-covid-19. A Napoli sono già in allestimento le tendostrutture dove saranno fatte le vaccinazioni all'ospedale Cotugno e all'ospedale del Mare. L'Asla Napoli 1 Centro ha chiesto la possibilità di allestire la tenda anche all'ospedale San Paolo. Mentre in queste ore sono iniziate le prenotazioni, dopo la vaccinazione i pazienti aspetteranno circa 15-20 minuti nelle camere di osservazione prima di andare via. Poi saranno sottoposti al monitoraggio nei giorni successivi per verificare l'eventuale emergere di allergie o reazioni indesiderate. Il consueto bollettino Covid-19 odierno dell'unità di crisi regionale Campana indica come positivi del giorno 791, unità di cui asintomatici 713 e sintomatici 78. I tamponi effettuati sono stati 10.185 per un totale di positivi di 182.050 unità ed un totale di tamponi effettuati di 1.927.864. I deceduti sono 25, 8 nelle ultime 48 ore e 17 nei giorni precedenti ma registrati. Soltanto adesso per un totale di deceduti di 2.624 unità. I guariti del giorno sono 3.039 per un totale di 98.167. Il report posti letto su base regionale evidenzia posti letto di terapia intensiva disponibili 656 di cui occupati 118. Sette passeggeri su 245 arrivati in aereo a Napoli provenienti da Londra sono risultati positivi. Al Covid-19 lo rende noto l'unità di crisi della regione Campania che ha disposto per queste vacanze natalizie controlli a tappeto su chiunque arrivi in Campania negli aeroporti e nelle stazioni. Ogni sette sono stati controllati all'aeroporto di Napoli di Capodichino e trovati positivi al Covid. Come rende noto ancora la regione Campania si stanno effettuando analisi più approfondite sul virus per determinare se si tratti della nuova variante da coronavirus isolata per la prima volta nel Regno Unito che d'essa più preoccupazione per la maggiore velocità con cui si diffonde. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato nella sua diretta Facebook abituale del lunedì ai suoi concittadini e ha anticipato alcune misure che si adotteranno nella sua città in contrapposizione alle ordinanze del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Sto anche immaginando in collaborazione con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città di fornire loro i nostri tamponi rapidi in modo che possano effettuarli in ogni plesso, in maniera chiaramente gratuita da parte nostra, in ogni plesso a favore di docenti, di persone alleata, anche dei bimbi e dei genitori. La ripartenza dobbiamo raggiungerla, ma assolutamente in sicurezza. Evidentemente non riaprirò mai le scuole se c'è il minimo pericolo di contagio, però dobbiamo lavorare affinché questo obiettivo si possa raggiungere. Altra questione relativa ai locali, c'è stata questa serie di ordinanze tra Conte e De Luca. Io sto valutando in maniera molto seria e concreta la chiusura dei bar per il 24. Se dovessi accorgermi, se dovessi rendermi conto che l'apertura dei bar che in questo momento per De Luca si può fare o non si può fare, c'è anche l'impugnazione da quello che comprendo rispetto a questa ordinanza, ma al di là di quello che fa il governatore, rostamente poco mi importa. Certamente non potrei mai consentire assembramenti in prossimità dei bar il 24. So che sarebbe un sacrificio, so che da parte mia sarebbe anche una scelta forte, ma se serve a garantire la nostra sicurezza e la nostra salute non esiterò a chiudere i bar o comunque i luoghi della Movida e dell'aperitivo il 24 dicembre. L'Asle di Caserta ha diramato il consueto bollettino di aggiornamento quotidiano sull'andamento della curva epidemica in terra di lavoro. Nella giornata del 22 dicembre si registrano 132 nuovi positivi, a cui si aggiungono 3 deceduti e 337 guariti. I tamponi del giorno processati sono stati 1.391 per un tasso di positività del 9,5% e leggerissima risalita rispetto alle 24 ore precedenti. La città che fa registrare il maggior numero di attuali positivi è a Versa con 415, seguita da Marcianise con 356 e Caserta con 277. Il collegio di garanzia del CONI ha accolto il ricorso del Napoli dopo la sconfitta a tavolino per 3-0 contro la Juventus. La gara dovrà quindi essere giocata. Le prime ipotesi sono per il 13 gennaio al posto della gara di Coppa Italia tra Napoli ed Empoli, esattamente una settimana prima della sfida contro la stessa Juventus in Supercoppa Almape, il Stadium. Intanto gli azzurri hanno visto sottratto anche il punto di penalizzazione che avevano in classifica e sono saliti così a quota 24 in terza posizione assieme alla Juventus. Domani occhi puntati sulla sfida con il Torino al San Paolo alle ore 20.45. Out, Koulibaly e Lozano, scelte obbligate per Mister Gattuso con Insigne, Politano e Petagna che giocheranno nel Tredente. A centrocampo ci saranno Bakayoko, Demme che tornerà dal primo minuto e Zielinski mentre in difesa. Possibile chance al primo minuto per Goulam sull'out. Mancino. Ufficiale la partita in programma. Domani al Menti tra Juve Stabbia e Casertana è stata rinviata a data da destinarsi dopo la documentazione presentata dai falchetti alla Lega a causa Covid-19. Dopo il 3-0 contro la Viterbese di qualche giorno fa che ha suscitato non poche polemiche. Infatti i falchetti sono riusciti ad ottenere il rinvio del match contro le Vespe, il derby campano. Una decisione logica e di buonsenso a causa della situazione epidemiologica nei falchetti. Per questa edizione di Prima Tg è tutto. Appuntamento tra qualche minuto sempre sui nostri canali perché c'è Senza Impegno conduce Davide Paolino. Una buona serata.